oroscopo sicilia nuova puntata scopriamo insieme il quadrastrale per la giornata di oggi ariete conflitti inaspettati potrebbero sorgere quindi mantieni la calma e cerca di evitare discussioni inutili la diplomazia sarà la tua arma migliore prenditi del tempo per rilassarti e ascolta il tuo corpo un piccolo gesto di gentilezza verso qualcuno potrebbe migliorare la tua giornata toro potrebbero sorgere problemi di comunicazione quindi presta attenzione a come esprimi le tue idee evita di essere frainteso cercando di essere chiaro e coinciso un malinteso con un collega potrebbe causare tensioni affrontalo con calma un consiglio da una persona fidata sarà prezioso non prendere decisioni affrettate gemelli potrebbero sorgere imprevisti sul lavoro mantieni la calma e affrontali con prontezza la tua flessibilità sarà un grande vantaggio un collega potrebbe aver bisogno del tuo aiuto non esitare a offrirlo prenditi del tempo per rilassarti dopo il lavoro la tua mente sarà più lucida cancro le relazioni personali richiedono il tuo tempo dedica attenzioni ai tuoi cari e ascolta le loro necessità una conversazione sincera potrebbe rafforzare un legame importante organizza una serata rilassante con la tua famiglia la tua sensibilità sarà molto apprezzata leone potresti incontrare qualche difficoltà imprevista mantieni la calma e affronti problemi con prontezza la tua leadership sarà messa alla prova ma saprai gestire la situazione prenditi del tempo per rilassarti dopo il lavoro una serata tranquilla ti aiuterà a ricaricare le energie vergine oggi è un giorno perfetto per affrontare questioni finanziarie la tua attenzione e dettagli ti aiuterà a prendere decisioni informate e vantaggiose potresti ricevere delle opportunità di investimento o guadagno in amore la tua sincerità e apertura saranno apprezzate dal partner rafforzando la vostra connessione bilancia oggi è un giorno ideale per concentrarti sulle relazioni personali sia aperto e onesto nelle comunicazioni con i tuoi cari potrebbero emergere questioni risolte ma con la tua diplomazia riuscirai a trovare una soluzione in ambito lavorativo evita di prendere decisioni affrettate e prendi il tempo necessario per valutare tutte le opzioni scorpione continua a sfruttare l'energia favorevole della luna nel tuo segno è un ottimo momento per prendere decisioni cruciali o affrontare questioni personali che richiedono coraggio e determinazione mantieni l'attenzione sulle tue priorità senza lasciarti distrarre da dettagli insignificanti sagittario questa giornata porta con sé un senso di equilibrio interiore potresti trovare un modo efficace per combinare le tue responsabilità quotidiane con il desiderio di esplorare nuove idee o nuove opportunità la tua mente è affilata e aperta alle nuove informazioni il che ti permetterà di affrontare le sfide con intelligenza e flessibilità capricorno oggi potrebbero esserci alcune sfide nelle comunicazioni o nelle interazioni sociali potresti sentirti frustrato se le cose non vanno come previsto quindi è importante essere pazienti e diplomatici nelle tue interazioni evita di reagire impulsivamente e prenditi il tempo necessario per comunicare in modo chiaro e diretto per evitare malintesi acquario con la mente affilata e la creatività in piena espansione questo è il momento perfetto per esplorare nuove idee e progetti la comunicazione sarà fluida ed efficace consentendoti di stabilire connessioni significative sia nel lavoro che nelle relazioni personali sfrutta al massimo questa giornata per fare progressi significativi nei tuoi progetti pesci continua a sfruttare l'energia favorevole di inizio settimana oggi potresti trovarti a gestire diversi compiti o a partecipare a discussioni che richiedono il tuo tocco personale il tuo intuito sarà particolarmente acuto aiutandoti a prendere decisioni sagge e a navigare con successo tra le varie sfaccettature della tua giornata è un momento favorevole per pianificare si conclude qui questa puntata di oroscopo sicilia io come sempre vi ringrazio e vi aspetto alla prossima